Buonasera a tutti, incominciamo puntuali. Buonasera, vi do tutto il benvenuto, grazie di essere numerosi perché in verità ci sono stati molti scusati per questa maledetta influenza che sta decimando un po' tutti e poi le agende di tutti noi sono abbastanza cariche. Ci sono diversi scusati anche, si sono scusati il consigliere di Stato Cristian Vitta che è a Davos, Manuele Bertoli, Beltraminelli e Paolo. I nostri municipali, Roberto Badaracco e il sindaco Marco Moradori che probabilmente forse passa dopo. E numero di altre persone e personalità anche nel mondo culturale e accademico per le ragioni che ho detto prima. Saluto anche voi tutti, naturalmente, ma anche i candidati che sono presenti per questa campagna per il Parlamento e per il Governo, a cui faccio tanti auguri di una campagna ricca, soprattutto di incontri che sono molto importanti e di successo non solo del risultato elettorale, ma di persona e soprattutto negli incontri. Il tema che presentiamo questa sera credo sia un tema estremamente di attualità, non è un tema nuovo, perché in verità in tutta la storia, soprattutto alla fine dell'Ottocento, fino ai giorni nostri, dopo ogni crisi importante, ci sono anche state le crisi, diciamo, dei partiti, della società e una forte sofferenza che poi creava motti e movimenti. Però quella che stiamo vivendo oggi, secondo me, è piuttosto allarmante, perché il momento è difficile, ma quello che si prospetta non è che abbia molta luce positiva. L'era della globalizzazione, con i suoi indubbi aspetti positivi, come la velocità dell'informazione e della comunicazione, e quelli negativi, come il degrado ambientale e le disparità sociali che crescono sempre di più, ci fanno vivere un'epoca di inquietudine. E in questa epoca di rapidi trasformazioni, di riduzione dei rapporti sociali, dove è più facile avere e l'essere è uguale all'apparire, di processi produttivi e finanziari di dimensioni colossali, di larriceranti conflitti ed ingiustizie, dove i diritti umani sono sempre più calpestati anche qui a casa nostra, credo che sia un grande bisogno di ritornare ai fondamentali, al messaggio dei classici maestri di moderazione, di equilibrio e di virtù etiche. Insomma, alla cultura, la cultura non con la K, ma con la C maiuscola. Un concetto che è sempre più sparisce dal linguaggio della politica, invece di essere in cima alla lista delle priorità. Un concetto che negli slogan viene sostituito spesso dal possesso, dalla chiusura, riprendiamoci il nostro territorio, riprendiamoci i nostri simboli, costruiamo muri, costruiamo frontiere, chiudiamo i porti. Insomma, questo è il linguaggio che si sente sempre di più. È l'espressione purtroppo ormai comune che questa nostra società sia sempre più liquida. Io direi per molti aspetti gassosa, perché il gas penetra dappertutto, non ha colore, non ha odore, però può essere micidiale e può far morire senza che ve ne accorgete. Quando iniziano a crollare i riferimenti più importanti, quando chiunque può, senza sforzo di sacrificio alcuno, arrivare in cima alla scala, come nella conquista del Far West, i partiti si adeguano. L'espressione politica più indicativa di questo comune sentire, si incanala nei movimenti o in persone che, come fossero i nuovi Messia, ci dicono, ce lo chiedono i cittadini. Un'espressione che incomincio a non tollerare più. Con una retorica piena di menzogna, ma questo che importa, con la parolaccia ormai sdoganata e il dileggio delle istituzioni senza ritegno. Dove a guardare bene non si conoscono i programmi e i principi fondamentali che muovono queste persone, questi partiti, questi movimenti. Dove non ci sono i presidenti, ma ci sono i colonnelli, che già il nome fa paura, o i senatori. Dove non ci sono veri programmi, divisioni a medio e lungo termine, ma solo una mera ripetizione di ciò che la gente vuole sentirsi dire, senza alcuna formula, anche vaga di una soluzione. Ed è tutto ora, qui e subito. Ci si incammina verso una via senza porsi alcuna domanda se quella strada sia contro la Costituzione, contro gli accordi, contro le istituzioni che ci rappresentano. Anzi, meglio se è contro. Tutto questo non sta facendo morire la democrazia, ma sta creando le nuove democrazie illiberali. Forse anche peggio delle dittature. E stanno fiorendo in diverse parti del mondo e noi non ce ne stiamo accorgendo. Forse è ora di svegliarsi. I partiti sono utili a tutto questo? Io credo proprio di sì. Possono solo essere la salvezza se ci fosse maggiore tensione etica, maggiore attenzione ai propri valori. Certo, bisogna conoscerli, senza calpestarli per interessi personali o particolari. Ma di questo, e gli effetti sulla democrazia, ne parliamo con i nostri ospiti, che ringrazio di essere venuti. E ringrazio anche Fabio Pontigia, direttore del Corriere del Ticino, che modererà la serata, a cui lascio la parola, che presenterà gli ospiti e guiderà la serata. Grazie. Bene, cara Presidente, gentili signore e gregi signori, saluto tutti voi molto cordialmente. Il mio compito è proprio marginale, io mi limiterò a presentare i due illustri relatori e a porre qualche domanda. La serata è organizzata appunto in questo modo. Ascolteremo due brevi relazioni iniziali di Oscar Mazzoleni e del professor Veca, della durata di 10-15 minuti ciascuna. Poi faremo un primo giro di domande qui al tavolo e poi apriremo naturalmente ciò che conta, le domande del pubblico, i nostri relatori. che presento molto brevemente, anche se penso che tutti voi li conosciate molto bene, Oscar Mazzoleni, politologo, professore di scienza politica, ha insegnato a Ginevra, a Parigi, a Torino. In Ticino è stato per lunghi anni, dal 98, se non sbaglio, fino al 2011, responsabile dell'osservatorio cantonale della vita politica e poi è diventato direttore dell'osservatorio della vita politica regionale all'Università di Lausanna. Il professor Veca, lo ringrazio, lo saluto molto cordialmente, perché ci rende onore con la sua presenza e ascolteremo molto attentamente ciò che ci dirà brevemente. Filosofo, professore, ha insegnato a Firenze, a Pavia, è stato presidente della Fondazione Feltrinelli, insegna, credo ancora, all'Istituto Universitario Superiore di Pavia, ha pubblicato una, non dico infinità, ma tanti saggi, li abbiamo letti, li conosciamo, non ne citerò per non fare torto a nessuno dei libri importanti che ha scritto. si è occupato inizialmente di teorie marxiane, di epistemologia delle teorie marxiane, poi di temi come la giustizia, soprattutto andando ad indagare la filosofia di John Rawls, ha pubblicato libri che hanno affrontato concetti come quello dell'incertezza, dell'indeterminatezza, che sono temi che hanno gettato semi nuovi nel dibattito e nella ricerca filosofica. Bene, io penso di aver detto tutto sui relatori e passo la parola senz'altro ad Oscar Mazzolini. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio Circolo Battaglini e soprattutto la signora Ferrari Gamba per questo invito. Se facessi la domanda al pubblico qui presente quanti di voi considerano che i partiti politici stanno bene, stanno fondamentalmente meglio che nel passato, probabilmente nessuno di voi alzerebbe la mano. E quindi parlare di crisi dei partiti, sappiamo che non è per niente una questione nuova, ma chiediamoci che cosa servono i partiti e non sto parlando qui da filosofo ma da, come chiamano scienziato della politica, da politologo che cerca di capire perché storicamente, perché nella realtà a un certo punto uomini e donne organizzano un partito e lo fanno per alcune ragioni. Lo fanno anzitutto per attivare i sostenitori dei candidati quando si avvicinano le elezioni, soprattutto quando ci sono concorrenti agguerriti. Questo è successo nell'Ottocento quando è stato organizzato da un lato un partito liberale e poi un partito conservatore in Ticino. A un certo punto bisognava organizzare i comitati. Questi comitati possono essere più o meno durevoli, più o meno contingenti rispetto alle elezioni. Evidentemente in un paese dove si fanno regolarmente delle elezioni a vari livelli conviene avere un'organizzazione durevole. E quindi questi partiti anzitutto rispondono all'obiettivo elettorale raccogliere voti, raccogliere il consenso. Poi servono anche però quando una volta ci si ritrova come deputati in un Parlamento a organizzare come dire coloro i quali convergono su certe idee, su certi interessi e quindi si organizzano i gruppi parlamentari cosa che è successa appunto tra l'Ottocento Novecento in tutti i Parlamenti si è creato parlando evidentemente di paesi in cui si è introdotto il suffragio universale e quindi bisogna organizzare i voti perché le persone non necessariamente si conoscono coloro che votano e poi quando ci si ritrova in Parlamento bisogna organizzarsi per poter in qualche modo contare e si conta e quindi si creano dei gruppi parlamentari quindi i partiti hanno un obiettivo istituzionale e poi però i partiti hanno storicamente anche altre funzioni più complicate anche da descrivere che potremmo chiamare costruire un senso di comunità un senso di appartenenza sentirsi uniti da ideali da interessi non solamente tra eletti nelle istituzioni evidentemente ma anche tra membri aderenti attivisti potremmo chiamare questo un obiettivo ideologico identitario ora io penso che se parliamo di crisi dei partiti certamente non parliamo del fatto che i partiti non riescono più oggi a organizzare con mezzi nuovi il consenso politico non parliamo certo della fine dei gruppi parlamentari ma parliamo di un certo modo di intendere il partito quel partito che storicamente è stato chiamato il partito di massa dominante in molti paesi europei nel corso del ventesimo secolo che ha incarnato appunto i tre obiettivi insieme elettorale istituzionale comunitario valoriale cioè si portano dei valori si condividono dei valori un senso d'appartenenza un valore e evidentemente anche interessi però c'è qualcosa che unisce al di là diciamo della scadenza elettorale e dal doversi trovare in un parlamento a decidere insieme oggi e questo è stato detto ridetto negli ultimi 20-30 anni il partito di massa è tramontato è andato in crisi e per certi versi scomparso gli elementi comunitari valoriati sono fortemente indeboliti in alcuni casi hanno portato alla fine o quasi dei partiti cosiddetti storici perché non solamente in Svizzera in Ticino ci sono i partiti storici ma pensiamo alla Francia e all'Italia partiti che sono nati nel secondo dopoguerra che oggi non esistono più e laddove esistono questi stessi partiti che sono riusciti in qualche modo a superare molte sfide tra l'8 e il 900 questi dimostrano fragilità si sono indeboliti hanno avuto difficoltà elettorali crescenti le ragioni sono molteplici molte molteplici e qui voglio essere molto breve e schematico parlando di processi di modernizzazione di trasformazione della società la crisi delle ideologie si è detto la crisi del mondo associativo perché attorno ai partiti c'era un mondo associativo molto ricco pensiamo alle filarmoniche che in Ticino avevano un colore di partito i nuovi movimenti di protesta e poi il ruolo crescente dei media vecchi e nuovi capaci di plasmare la comunicazione politica crisi ok persistenza certo persistenza ho detto prima gli obiettivi istituzionali elettorali continuano persistono se bisogna presentarsi alle elezioni bisogna organizzarsi in un qualche modo e quindi laddove ci sono elezioni laddove c'è un suffragio universale laddove non necessariamente si conoscono gli elettori uno per uno soprattutto e oggi è più difficile di quanto accadeva 40 o 50 anni fa ebbene abbiamo bisogno di macchine organizzative cioè i candidati hanno bisogno di macchine organizzative che consentono la raccolta dei sostegni elettorali però 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 e qui voglio fare un salto indietro brevissimo i partiti di massa non sono esistiti in tutti i paesi occidentali ed europei in particolare cos'è un partito di massa? era un partito organizzato che aveva come modello espressivo quello il modello era il partito comunista in Italia qui vicino abbiamo avuto il partito comunista più importante ma avere un partito comunista non significa solo avere un partito che ha un'ideologia molto forte ma che è organizzato come uno stato nello stato che è un'organizzazione quasi paramilitare all'interno con militanti convinti qui lo sapete in Svizzera nel 1940 è stato proibito il partito comunista ricordiamoci che in paesi che non hanno vissuto un grande partito comunista anche gli altri partiti hanno avuto organizzazioni molto più leggere come succede per esempio in Ticino abbiamo dei partiti che in pratica soprattutto i partiti di centro-destra di centro-centro-destra che non hanno il tesseramento tradizionalmente non è che ci si iscrive al partito e poi si paga un tot all'anno queste sono cose recenti recentissime questi fenomeni esistono a sinistra ma con un partito socialista che non ha niente a che fare con questa forza organizzativa che hanno avuto in altri paesi come in Francia e in Italia i partiti comunisti quindi attenzione i partiti hanno traiettorie diverse ci sono partiti che erano fortissimi che sono morti scomparsi in altri paesi come la Svizzera erano quasi più deboli 20-30 anni fa in molti cantoni svizzeri in molti cantoni svizzeri in Ticino forse le cose sono un po' diverse ma attenzione i partiti hanno traiettorie diverse le società i paesi non sono tutti uguali e quindi in un certo senso questo va a spiegare anche in parte la persistenza perché laddove i partiti erano forti determinanti dove c'era la partitocrazia all'italiana per intenderci questi sono scomparsi anche perché sono diventati il bersaglio non solamente parole ma nei fatti di tutta la contestazione della sfiducia della politica sono diventati il bersaglio e hanno pagato fino in fondo in altri paesi non essendo così centrali i partiti hanno potuto anche in parte sopravvivere anche per questo perché non considerati così fondamentali e qui ci torno quindi parliamo di diversità organizzative non si organizza una macchina di partito allo stesso modo dappertutto in ogni circostanza e pensate un po' i partiti di massa scompaiono e poi ci sono dei partiti che riscoprono gli elementi del partito di massa una presenza capillare sul territorio pensate all'Udc Svizzera che ha creato decine e decine di nuove sezioni comunali in moltissimi cantoni svizzeri a partire dagli anni 90 prima esisteva il partito solo in alcune zone della Svizzera e che ha creato un sistema di attivismo presente che spiega anche il fatto che si prevedeva ancora un 28-30% per l'Udc questa organizzazione molto come dire presente sul territorio si ritrova anche in altri partiti l'FPE è il partito il fraichie partai austriaco e altri partiti come la Lega Nord Salvini è un po' diverso se mai ci possiamo tornare che hanno una forte organizzazione capillare sul territorio e che hanno per certi versi poco da invidiare dal punto di vista dell'organizzazione ai partiti della sinistra comunista di alcuni decenni o solo e poi ci sono dei movimenti partito e partiti che si presentano come movimento che però si presentano elezioni che si organizzano in gruppi parlamentari e che ovviamente giocando anche sul fatto che la retorica antipartito si diffonde non hanno nessun interesse a vendersi come partito però sono pur sempre dei partiti e qui è importante dire che ci sono dei paesi e qui parliamo della Svizzera del Ticino di altre zone dove c'è una continuità dei partiti storici la Germania anche è il caso l'Inghilterra dove non abbiamo la stessa esperienza che c'è in Italia e in Francia quindi attenzione i partiti esistono continuano a esistere sono più fragili possono apparire in crisi si organizzano in modo diverso non c'è un solo modo di organizzarsi e molto dipende da cosa fa l'avversario evidentemente da cosa fa il concorrente concorrente che certo ha inventato magari nuove forme di comunicazione oggi sicuramente siamo di fronte a tre grandi sfide dei partiti che siano diciamo organizzati in un modo o nell'altro tutti i partiti devono in qualche modo trovare una formula vincente giocando su questi tre su queste tre dimensioni che è la mediatizzazione l'uso crescente della mediatizzazione del marketing politico in qualche forma bisogna comunicare a un pubblico più distratto a un elettorato d'opinione meno convinto a priori di poter votare di voler votare tal partito o tal candidato e poi i partiti hanno scelto e questo è fondamentale in molti contesti la personalizzazione far credere che contano di più le persone che i partiti che le organizzazioni in questo modo pensando che i partiti possono guadagnarci quindi qui siamo anche in Ticino insomma questa è stata la scelta per esempio con l'introduzione della scheda di contestazione per le elezioni cantonali e poi c'è la questione fondamentale certo i partiti si confrontano con una società diversa non quella dell'ottocento non quella delle comunità radicate sul territorio delle valli in cui le persone avevano un legame molto stretto con la propria terra oggi siamo all'epoca della mobilità geografica eppure c'è il problema fondamentale del legame col territorio spesso questo è il vantaggio competitivo di alcuni partiti rispetto ad altri e questo è fondamentale per capire la persistenza e infine non solamente crisi non solo persistenza non solo diversità e questa è la quarta nozione che utilizzerò questa sera complementarietà oggi siamo in un'epoca in cui i partiti hanno perso il monopolio della formazione dell'espressione dell'opinione pubblica questo è un punto fondamentale si può dire che persistono i partiti e questo sicuramente però i partiti competono con che cosa con l'enorme espansione dei media d'opinione che contribuiscono a formare l'opinione pubblica la democrazia referendaria in questo la Svizzera è il paese precursore e spiega anche la debolezza dei partiti storicamente però attenzione i comitati referendari non sono i partiti il voto personale l'ho già detto qui anche qui Svizzera come precursore le forme di democrazia deliberativa i movimenti di protesta i comunitati civico elettorali e poi non dimentichiamo che i social media hanno aperto un nuovo canale di espressione per i cittadini e con questo tutte queste trasformazioni i partiti devono fare i conti non hanno più il monopolio di poter dire questo giusto questo sbagliato in politica poter comunicare formare l'opinione devono fare i conti con tutti questi concorrenti possono diventare complementari beh dipende dai partiti come sapranno agire concludo i partiti politici non sono dal tramonto né in Svizzera né in Ticino né in Europa vivono nella crisi e della crisi anche persistono come forma principale delle democrazie contemporanee soprattutto anche nel diciamo in generale dove c'è democrazia rappresentativa classica ma anche dove è semidiretta come in Svizzera assumono forme organizzative diverse in funzione di sfide elettorali e istituzionali si devono e si adattano anche per fare i conti con canali strumenti concorrenti di formazione dell'espressione pubblica quindi dei partiti forse meno come dire ambiziosi ma nel contempo sempre costretti se vogliono vincere le elezioni fare i conti con il fatto di dover continuare ad essere macchina organizzativa appunto per vincere vi ringrazio bene grazie al professor Mazzolini che ha messo molta carne al fuoco e adesso la parola al professor Veca a lei la parola grazie di cuore grazie di cuore per l'invito grazie per la presentazione anche troppo eloquente e generosa e grazie a voi per la vostra presenza e grazie a Oscar Mazzolini perché devo dire che io potrei commentare ciascuna slide diciamo portandola a un livello di astrazione e generalità e questo è la filosofia politica rispetto alla scienza politica questo è il punto ma sono d'accordo su molte delle cose che ha detto Oscar c'è solo un punto io procederò in modo impressionistico e non ho c'è solo un punto che è questo questo processo questi processi di trasformazione di mutamento di partiti politici di caratterizzati da differenti storie differenti contesti differenti insomma una sorta di dipendenza dal contesto che caratterizza anche le agenzie politiche durevoli come appunto i partiti politici conoscono una serie diciamo di accelerazione del mutamento o si trovano di fronte a sfide inaspettate come si dice ci sono un sacco di cigni neri come dice anche l'imperatore cinese nel suo nuovo gergo questa cosa è abbastanza si può rilevare diciamo almeno nel nostro angolo di mondo cioè parliamo grosso modo dell'Europa per non si può verificare negli ultimi 20-25 anni nella buona sostanza si ha l'impressione che a partire dagli anni 90 del secolo scorso in qualche modo molti partiti politici in contesti molto differenti hanno conosciuto esperienze di indebolimento delle prestazioni una certa maggiore difficoltà a funzionare rendimenti decrescenti tu hai accennato giustamente ai casi emblematici e paradigmatici la mia impressione è che il punto su cui dovremmo riflettere è che a partire da quegli anni che in qualche modo l'esercizio della risorsa l'impiego della risorsa dell'autorità politica e i partiti abbiamo visto tra le tre funzioni c'è una funzione che è quella che concorre alla selezione del personale di governo che è la prima la seconda è istituzionale la terza è generazione di beni identitari beh i partiti il sistema dei partiti come sistema politico adesso stiamo parlando di democrazie rappresentative di diverso tipo ha conosciuto la la relativa debolezza dell'esercizio di potere politico rispetto all'esercizio di poteri sociali tra cui principale quello economico e principale tra questi quello finanziario se se non ci mettiamo questa roba qua lo dico in modo molto rozzo è difficile rendere conto di alcune cose non è difficile rendere conto del lento collasso del partito comunista italiano non è difficile quello si spiega indipendentemente da questo ma è difficile rendere conto del progressivo collasso di partiti socialdemocratici o pro labor nella stessa Germania in cui abbiamo una grande una maggiore stabilità istituzionale e quindi anche dei partiti se noi andiamo a vedere gli esiti di SPD sulle ultime elezioni abbiamo è chiaro che è alto rispetto ad altre la percentuale che ottengono rispetto ad altre situazioni di paesi membri dell'unione o di paesi la democrazia rappresentativa e però certamente è un collasso ed è un collasso annunciato perché è un collasso annunciato e quello del partito socialista francese che qualcuno conosce la vecchia storia di François Mitterrand e il congresso di Epinet quella è una storia che è caratteristica del secondo dopoguerra e poi nella quinta repubblica francese e il partito socialista francese scende all'otto e mezzo per cento alle ultime elezioni partito socialista spagnolo e via dicendo allora l'impressione è che i partiti conservatori se la cavano un po' meglio i partiti pro labor diciamo i partiti social democratici chiamiamoli per convenzione se la cavano molto peggio perché perché in realtà gli obiettivi di chi appunto svolgendo le funzioni che Oscar Mazzoleni ha così precisamente definito su cui sono pienamente d'accordo naturalmente possiamo avere una maggiore o minore gerarchia di rilevanza tra le funzioni e quello che sta cambiando non cambia non è che non ci siano i partiti è che semplicemente si altera la gerarchia di rilevanza delle tre funzioni che tu hai sottolineato ora il problema è che qualsiasi partito chiamiamolo social democratico è un partito che in fondo ha fatto parte in questa parte del mondo in Europa sotto certe particolari condizioni al contorno della costruzione degli stati sociali questo è non sono stati solo i partiti social democratici il primo service state è stato fatto nel secondo dopoguerra da Beveridge è stato fatto diciamo nella prospettiva non del welfare state ma del service state cioè dello stato abilitante ma il welfare state l'etat providence lo stato sociale lo stato del benessere sono costruzioni che hanno in qualche modo nei confronti di ampie frazioni omogenee di cittadinanza partiti di massa perché ci sono le masse il problema di partiti di massa che non si trovano a interpretare interessi aggregati relativamente omogenei di massa diventa un lavoro un po' difficile e quindi da un lato tu hai la minore capacità della politica di ottenere esiti rispetto alla relativa forza dei poteri economici finanziari perché i partiti sono condannati in qualche modo entro i confini stabili di comunità politiche i poteri economici e finanziari vanno in giro tranquillamente e sono poteri senza frontiere allora al netto dell'illegalità e della criminalità anche dal punto di vista legale salvo che poi non paghino le tasse dove dovrebbero pagarle quindi questo dopo una lunga fase novecentesca in cui il conflitto il compromesso il negoziato fra politica e economia per dirla così in modo rozzo in qualche modo ha fatto sì che si potesse diceva un vecchio filosofo dell'ottocento tedesco Hegel che era terribile il papà di Marx insomma diceva che bisognava imbrigliare il cavallo selvaggio il cavallo selvaggio era la politica e l'economia di Smith e di Riccardo diciamo e poi ci siamo trovati con uno sbilanciamento per cui il lungo ciclo in cui la politica era in grado quale che fosse l'esercizio dell'autorità politica quale che fosse era in grado in qualche modo di negoziare soluzioni di equilibrio instabile con i poteri e col capitalismo adesso parliamoci chiaramente siamo a poco a poco i poteri economici hanno avuto primazia sull'esercizio di potere politico si potrebbero fare molti esempi empirici di questa cosa io penso per esempio che tutta l'elaborazione comunicativamente straordinaria oggi ci appare arcaica della third way di Tony Blair di Tony Giddens di Brown eccetera cioè il new labor sia stato grazie al lavoro sporco fatto dalla Thatcher sia stato esattamente quello di lavorare in collusione e comunque in connessione con i poteri globali finanziari economici e finanziari tutti i partiti hanno fatto questo questo ha fatto sì io posso venire interrotto quando sono questo ha fatto spiega almeno una cosa lo dico in modo molto semplice spiega quella forma di revoca di fiducia nei confronti del ceto politico di rappresentanza che in larga parte delle democrazie rappresentative costituzionali europee ha dato luogo ai fenomeni di nuovi movimenti anti definentisi anti ceto politico anti politica anti elite il riferimento non è solo alle elite politiche è generalizzato questo è un punto importante ed è connesso esattamente all'ultimo punto che ho riposto cioè la trasformazione dei modi del comunicare è perché io clicco è perché io uno vale uno sulla rete è perché io esercito la risorsa della voce individualmente in realtà in solitudine cioè tutti sono connessi tutti sono comunità virtuali ma sono tutti soli cioè la solitudine la condanna alla solitudine è uno dei mali sociali per eccellenza delle nostre società e allora i movimenti costruiscono un noi i movimenti fanno un'offerta di un noi di un noi che è definito esclusivamente per contraposizione e contrasto al noi istituzionale al noi dei partiti dei partiti semplicemente che li precedono nel tempo allora da questo punto di vista il diciamo l'insorgenza di nuovi movimenti e il loro istituzionalizzarsi perché come tu dicevi giustamente per la fine movimenti o partiti comunque vanno in Parlamento se hanno una quota di consenso tale ma sì però che in realtà cambi non diciamo non siamo in presenza di una dissoluzione dei partiti siamo in presenza semplicemente di un cambiamento più o meno marcato degli stessi in funzione delle condizioni differenti di contesto questa è la mia risposta alla domanda a fare politica senza i partiti e questo mi fa venire in mente una vecchia storiella perché questo è molto connesso alla trasformazione delle democrazie rappresentative siccome tutti questi movimenti insorgono da una crisi della rappresentanza i forgotten men del signor Trump sono esattamente l'indice comunque di una crisi di rappresentanza io l'idea è nessuno mi rappresenta nessuno avanza promuove sostiene bisogni interessi che riguardino me io sono dimenticato allora quelli ti dicono no perché noi o io nel caso di crescente personalizzazione della politica perché quelli lì di Washington dicono questo ma noi io ti dico America First e d'altra parte il movimento della Lega in Italia il partito della Lega è il più vecchio partito oggi che siede in Parlamento italiano è straordinario la cosa rispetto a partiti nati alla fine dell'Ottocento il più vecchio partito politico italiano è la Lega che non è la Lega Nord è la Lega perché la Lega Nord era nata sulla base delle istanze anche quelle su crisi di rappresentanza in rapporto a territori e cioè era nata con le liste civiche originariamente siamo alla fine degli anni Ottanta e da ipotesi e progetto di secessione passa al progetto di nazionalismo identitario passa al progetto di scetticismo nei confronti infatti dell'Europa ha una qualche forma come si usa dire di sovranismo ma resta un partito è l'unico partito leninista che ci sia in Italia è l'unico c'è il comitato centrale c'è il radicamento territoriale importantissimo si fa politica camminando con i piedi come si diceva nelle socialdemocrazie scandinave e vi è un rapporto 5 Stelle è completamente diverso 5 Stelle sono un movimento che inventa un popolo il popolo è una forma completamente indistinta non esiste il popolo ci sono cittadini e cittadine in una democrazia ora invento un popolo sulla base di che cosa non sulla base di un come diceva Oscar prima di una qualche forma di disegno di società di una qualche forma di insieme di valori o di interessi da premiare piuttosto che da sanzionare no lo invento in nome della virtù è la politica della virtù che si parva lì riproduce in farsa la tragedia della virtù del terrore ma è la politica della virtù cioè guarda siamo incompetenti certo perché i competenti sono tutti una massa di cialtroni si sono fatti i soldi hanno pensato solo a se stessi e noi invece pensiamo a voi perché noi siamo onesti ma non sapete far niente ma cosa vuol dire ma la resilienza che hanno questi movimenti rispetto ai deficit è straordinaria consensi che permangono nonostante il fallimento e il deficit perché in realtà il deficit non è imputabile agli onesti perché sono onesti ma è imputabile alle carogne che c'erano prima che hanno incendiato o insanguinato i pozzi e chiudo con la vecchia battuta perché mi è molto cara perché me la raccontò in un severissimo convegno questo auditorium è così ospitale e caldo invece era un severo convegno uno dei miei amici più cari è un grande studioso di scienza sociale Alessandro Pizzorno il quale cominciò una relazione sulla crisi della democrazia perché si è sempre parlato di crisi della democrazia crisi dei partiti eccetera e cominciò dicendo vorrei raccontarvi una storia che mi ha raccontato un vecchio contadino in Toscana la storia si chiama l'ascia del nonno l'ascia nel senso dell'ascia e dice c'era questo contadino che era entusiasta perché aveva ancora in casa l'ascia del nonno allora mi portava in una stanza dove c'era tutta la roba come fanno i contadini veniva tutta tenuta sotto il cellofan non lo usavano perché stavano tutti in cucina vicino al camino e lì c'era l'ascia del nonno ma guarda che meraviglia la lama naturalmente l'abbiamo cambiata il legno che la teneva l'abbiamo cambiato ma è l'ascia del nonno allora partiti democrazia forme di rappresentanza agenzie politiche sono come l'ascia del nonno guardate che il tema dell'ascia del nonno adesso mi trattengo la mia incontinenza verbale è un gigantesco problema filosofico perché è lo stesso problema che in filosofia da sempre assilla non so se con buoni risultati o meno impegno e risorse intellettuali è il tema della nave di Argo o della nave di Teseo cioè il tema dell'identità nel tempo di qualcosa sono partiti o sono altro che cosa fa sì che riconosciamo come partito politico come partito politico che cosa fa sì che riconosciamo come democratico un regime quali sono i punti oltre i quali si deforma perché fino a che non siamo ai punti di deformazione potremo ben parlare di crisi nei partiti di crisi nella democrazia ma non di crisi della democrazia che è cosa diversa ma su questo non posso che tacermi ringraziandovi della straordinaria pazienza e attenzione bene diciamo che gli spunti sono tanti e inducono a domande a volte anche inquietanti perché l'ultimo accenno che ha fatto il professor Veca va diretto a un tema che poi magari affronteremo verso la fine perché cominciano a uscire diversi scritti che hanno questi titoli oltre la democrazia o addirittura contro la democrazia e sono temi su cui si dibatte oggi però questo è un passo troppo lungo rispetto a quello iniziale torniamo ai partiti il professor Veca ha detto indebolimento delle prestazioni rendimenti decrescenti il cittadino dice non mi sento rappresentato più da nessuno però ecco non abbiamo capito bene perché è intervenuto questo questa defiance nei partiti storici qual è stato il fattore scatenante se è stato solo uno quali sono stati Oscar Mazzolini molti sono i fattori ne ho espressi prima alcuni pensate la questione dell'ASH è molto interessante pensate a delle macchine organizzative delle associazioni di diritto privato come erano i partiti dell'ottocento pensate alla società dell'ottocento e pensate alla società di oggi il Ticino parliamo del Ticino era un paese completamente diverso per sua conformazione territoriale numero di persone profilo le famiglie tutto diverso un altro mondo eppure ci sono i partiti che hanno gli stessi nomi che continuano ad esserci anche oggi bene possiamo chiederci perché fan fatica beh anzitutto perché sono nati e cresciuti plasmati dentro un'epoca diversa che è radicalmente diversa dalla nostra questa sicuramente è la ragione principale e perché 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 questo significa anche che nel nel passaggio generazionale ci sono modi di fare di comportarsi di ragionare che vengono reeditati tra le leggezioni politiche e soprattutto la Dore c'è una grande stabilità politica ci sono abiti mentali certe cose si fanno certe altre cose non si fanno come qualsiasi organizzazione quindi quando ci si trova di fronte a un cambiamento repentino improvviso inaspettato pensate all'inizio degli anni 90 per i partiti storici ticinesi quando è arrivata la lega i ticinesi siamo esattamente lì inizio degli anni 90 cioè si è guardato a questa cosa che arrivava ma questa è una cosa effimera noi siamo lì siamo importanti siamo sempre importanti saltano fuori questi matti qui che arrivano e noi invece siamo lì ben posati manca la cravatta noi ce l'abbiamo questa cosa qui è una cosa che succede dappertutto in tutto il mondo quando quando le imprese si sono dovute confrontare economiche si sono dovute confrontare all'arrivo dei cinesi imprenditori hanno detto ma sì cinesi chissà quando arriveranno e poi sono arrivati cioè in ogni in ogni campo quando la concorrenza arriva e arriva inaspettata dopo decenni di abitudini consolidate chi è in alto in genere fa fatica a immaginare cambiamenti spesso le rivoluzioni vengono dal basso in questo caso i cambiamenti vengono dal basso o da chi è esterno invece è chiaro che in una relazione che sta come dire che vive nella riproduzione di valori di comportamenti spesso spiazzata ecco questa secondo me è l'elemento cardine cioè le abitudini confrontati con cambiamenti repentini e inaspettati e non a caso il modo di interpretare lo sappiamo negli anni 90 ma anche dopo l'effimero l'effimero dimenticando che siamo in un'epoca dell'effimero e chi è effimero forse è più vincenti professor professor vecca oscar l'ha già detto cambiano perché cambia la società punto pensate a società strutturate in classi a interessi sociali a interessi omogenei e rappresentate e interpretate da partiti di massa eccetera pensate a una società come la nostra oggi ha fortissimo tasso di individualizzazione non è che non ci sia più la classe operaia gli operai ci sono spesso in molti paesi il numero è sempre lo stesso ma non vanno in fabbrica non sono comunità non hanno condivisione di valori e questo è il punto e quando il grande problema è che c'è stato un cenno che ha fatto la signora Morena mi sembra all'inizio proprio al problema per esempio che tutti conosciamo e su cui si potrebbe discutere a lungo dell'ultimo rapporto Oxfam proprio a Davos insomma sulla crescita della forbice delle ineguaglianze delle diseguaglianze che sono economiche che sono di status che sono di capitale che sono di rendita che sono di epistemiche cioè di conoscenza eccetera beh questo fa sì che in qualche modo siamo in società in cui come diceva Bauman che è stato intracitato i ricchi non hanno bisogno più dei poveri e non hanno paura dei poveri guardate tutte le grandi società industriali si sono basate sul fatto che gli imprenditori o i capitalisti avevano bisogno della forza lavoro e temevano l'azione collettiva della forza lavoro associata alle forme di agenzie politiche eccetera eccetera ma oggi no perché oggi la società è come scassata e naturalmente dicendo la società uno dice sempre qualcosa di molto vago perché poi bisogna andare a vedere di quale società parli però c'è nell'aria come è cambiato il Ticino in tutti i posti in cui un Ticino cambia è come la storia dell'ascia del nonno cioè riformulo solo in un secondo la risposta legando a quanto lo diceva Mazzoleni il collasso delle abitudini nei confronti dell'inaspettato questo è il punto i politici tradizionali hanno continuato a pensare con gli occhiali della mente ereditati mentre il mondo gli girava dappertutto e pensavano che tutto cambiasse eccetto loro anche loro cambiavano allora questo è il problema della volta di incertezza che accompagna le esperienze dell'inaspettato l'impegno a ridurre l'incertezza molto spesso è stato disatteso perché è terribilmente costoso e perché ha prevalso e continua a prevalere la logica del breve brevissimo termine sulla logica del medio o lungo termine questo è just in time e questo è un altro punto ok grazie c'è un fattore che finora è stato sottaciuto non affrontato che è quello della corruzione la svolta degli anni inizio anni 90 mani pulite in Italia in Ticino non era corruzione forse ma era clientelismo ricordate la Lega la cupola vogliamo eliminare i favoritismi i clientelismi cominciato a Lugano poi sono arrivati in governo però c'è questa oggettivamente soprattutto in certe democrazie il male corruttivo è veramente capillarmente diffuso se uno legge i giornali spagnoli francesi italiani non parliamone quasi ogni settimana saltano fuori ancora oggi nonostante tutto quello che è successo casi di politici corrotti e guarda caso sono in maggioranza appartenenti ai partiti che hanno fatto diciamo la storia del novecento ecco questo fattore è determinante oppure è solo una conseguenza collaterale Oscar Mazzoleni della corruzione si può parlare in senso morale o in senso funzionale la corruzione credo che sia parte integrante fisiologicamente del funzionamento qui magari le persone avranno qualcosa da ridire sicuramente è funzionale per molti versi al funzionamento dei sistemi politici contemporanei perché definisce un sistema di incentivi selettivi definisce in un certo senso una riduzione della complessità quando ci si trova di fronte a un problema di risorse di distribuzione delle risorse laddove il sistema di distribuzione parlavamo prima del sito sociale fa fatica a funzionare in chiave universalista perché non ci sono meno risorse o poche risorse a un certo punto i partiti i politici i governi stabiliscono delle forme di come dire dei criteri di selezione a chi dare e chi non dare e quel dare e non dare può essere fatto in modo trasparente oppure in modo non trasparente e chiaramente il non trasparente ci porta a quello che chiamiamo corruzione quello che è paradossale è che in effetti i movimenti antipartito si sono scagliati contro i pecchi partiti anche per questa ragione perché erano esclusi dal gioco anzitutto e perché chiaramente questo tra i cittadini suscita grande grande senso di denuncia perché evidentemente perché io e non cioè viceversa perché loro non io c'è questo sistema di preferenze favoritismi e quindi è chiaro che questo scatena in una democrazia una lotta un conflitto aperto quindi fa parte in un certo senso del sistema delle disuguaglianze in un certo senso e della riproduzione delle disuguaglianze il paradosso è che laddove questi partiti anche in nome della sovranità e in nome della contestazione si sono ritrovati poi ad entrare nei governi molto spesso si sono abituati o riabituati a questi metodi perché perché ancora a loro volta hanno bisogno di cercare dei canali delle forme di selezione precisa di ridistribuzione di certe risorse che non sono infinite per riprodurre il consenso politico e quindi in un certo senso non siamo oltre siamo ancora dentro questi meccanismi che fanno parte purtroppo e qui permettetemi che lo aggiunga purtroppo del funzionamento delle nostre democrazie perché perché sono democrazie che funzionano anche attraverso flussi finanziari flussi di soldi soldi che non sono ripeto infiniti e che su cui i partiti e i governi e alcuni diciamo i gruppi dirigenti provano laddove è possibile controllarli per favorire la propria parte questo è un sistema è un sistema che non viene spesso denunciato perché è difficile da individuare ma non bisogna sottovalutare la propria la persistenza di questi sistemi anche nelle nostre nelle nostre democrazie contemporanee e anche qui vicino a noi professore mi riferirò soltanto al caso italiano perché potremmo considerare molti casi ci sono degli indici di gradatori di corruzione mondiali il Brasile non è che sia stato per fare un esempio ma il caso italiano è interessante per dire nel modo più veloce possibile noi abbiamo avuto perché è molto coerente con l'avvio della nostra discussione del tuo intervento l'Italia ha vissuto nel secondo dopoguerra una sorta di reggenza da parte del sistema dei partiti cioè il sistema dei partiti ha tenuto assieme un paese che non aveva nessuna ragione di stare assieme e per gli effetti della resistenza interpretata come guerra civile e per gli effetti del diciamo del conflitto ideologico che era un conflitto in realtà legato a potenza imperiale ostili perché c'erano il PC da una parte i comunisti da una parte e la democrazia cristiana filoatlantica dall'altra questo era un paese ingovernabile ci fu una sorta di patto consociativo virtuoso secondo me da parte dei maggiori partiti di massa che disciplinarono la società quando parlavi delle non so dell'associazionismo legato ai partiti non c'era bocciofila da noi dove si andava con le cose che in qualche modo non fosse o bianca o rossa per dire così o democristiana o comunista c'era una rete di associazionismo enorme che teneva assieme la società e e questo è stata la funzione del cosiddetto i cosiddetti partiti si chiamavano dell'arco costituzionale fuori c'era il movimento sociale italiano perché c'era una connessione non identificazione con l'eredità fascista dagli anni 70 in avanti il consociativismo è divenuto fonte non di corruzione la corruzione è fisiologica ma di un enorme tasso di corruzione perché c'è tanta corruzione o poca corruzione o meno corruzione o più corruzione l'Italia ha avuto molta molta corruzione perché il consociativismo diventava sul piano mentre manteneva sul piano come dire è patente la divisione il contrasto tra i partiti sul piano latente era un insieme di scambi sostanzialmente di risorse che venivano ottenute opache quando il sistema politico ha cominciato a collassare e siamo sempre lì su quel giro di boda degli anni 90 a cui facevo riferimento è chiaro che il potere giudiziario è sempre il teorema di Montesquieu è questo quando uno va c'è del vuoto l'acqua lo riempie e il sistema giudiziario ha avuto mano libera e ha fatto a pezzi due terzi della rappresentanza politica storica italiana tutto ciò naturalmente mi sono dimenticato di dire una cosa tutto quello che ho detto non ha nulla a che vedere con gli auguri cui mi associo già formulati per le prossime elezioni cantonali all'isola felice del Ticino ecco ok bene manca mezz'ora alla conclusione della serata io aprirei a questo punto alle domande del pubblico qui c'è già una mano alzata anche sopra diversa sono parecchie bene prego io vorrei rendere un po' efficace la discussione perché se non andiamo un po' i piedi per terra è un po' difficile è un po' difficile sentire allora il discorso del tesseramento del partito dei partiti no? ospa il partito liberale non ha un tesseramento però ognuno è dentro di una sezione e quindi c'è un discorso di radicamento sul territorio quest'anno il PLR chiede una partecipazione aiutiamolo speriamo che tanti lo seguano ed è una cosa interessante e positiva però appunto c'è un discorso di radicamento sul territorio a livello comunale adesso c'è il problema semmai di studiare cosa sono gli effetti delle aggregazioni a livello partitico perché si perdono queste radici minuscole che tenevano assieme la rappresentanza un altro punto e mi riferisco a Salvatore Veca che saluto e che è un piacere di rivedere dopo diversi anni parlavamo di Cattaneo mi sembra ecco qui in queste aule allora il discorso è anche i moderatori contestualizziamo per favore bene il discorso sulla democrazia perché la democrazia rappresentativa che seleziona l'elite culturale ha poco o difficilmente è vicina alla situazione svizzera dove alla fine è il cittadino che ha in mano la scheda e va a votare e sia o no all'iniziativa o sia o no al referendum e quindi c'è un potere e una discussione che è completamente diversa per favore sottolineate queste diversità scusate grazie grazie professore grazie mi fa piacere rivederti reciproco no io non vado mai coi piedi per terra perché faccio filosofia quindi sono piuttosto 50 minuti ma no il riferimento che tu fai è un riferimento alla come dire alla complessità della storia e della struttura del sistema politico elvetico cioè il mix di diversi tipi di democrazia l'uso dello strumento del referendum in fondo voi avete preinventato democrazia deliberativa e quindi è chiaro ma ogni democrazia è in qualche modo ha una sua specificità e che dipende dalla storia che dipende questo è un punto che avevamo sottolineato quindi quello che a me sembra importante è riuscire a tenere assieme uno sguardo ravvicinato i piedi per terra sul contesto su come stanno le cose come funzionano le cose eccetera eccetera e al tempo stesso però essere capaci di connettere quel contesto lì con una visione anche più più grande perché le cose sono le cose sono connesse le une con le altre scopriamo che a un certo punto per esempio il crinale di cui abbiamo parlato degli anni 90 è decisivo per l'avvio di certi processi in modi diversi in paesi diversi in sistemi diversi in società diverse in culture diverse ma questo è per esempio qualcosa che ci suggerisce come procedere grazie Oscar Mazzolini si crede che andando in televisione a un bel dibattito si raccolgano più voti che andare porta a porta e discutere con le persone questa è diciamo una delle più grandi credenze di questi tempi io penso in questo senso che invece quando tutti lo fanno il problema si pone perché se tutti lo fanno poi nessuno in realtà ci guadagna ecco secondo me la vera illusione è stata quella di essere da parte dei partiti storici perché giustamente si sono trovati scombussolati è quella di rispondere alle sirene di questo mondo mediatico fortissimo attrattivo fatto di tante luci e che in molti contesti in molti contesti hanno fatto abbandonare l'idea che il territorio invece è importante non a caso quei partiti che si sono in molti contesti ritrovati ad emergere a contestare i partiti storici hanno come dire occupato il territorio e in questo senso uno dei problemi adesso parliamo del canton ticino le aggregazioni sono state una sfida per i partiti storici anche qui sottovalutata perché si pensava che il problema fosse solamente la buona gestione del comune invece il problema è che quando si organizzano delle sezioni di partito poi quando cominciano a essere prima erano eravamo in cinque adesso bisogna mettersi d'accordo e farne una sola chi comanda chi se ne va via chi è demotivato chi si poi si ripresenta alle elezioni visto che tanto mi hanno fatto fuori e quindi tutto questo sistema di riorganizzazione completa è una piccola rivoluzione è una piccola rivoluzione per ogni partito quando ci si trova nelle fusioni comunali che chiamano aggregazioni ci sono state molte qui nel canton ticino i partiti storici sono quelli che hanno subito di più i contraccolpi pensando che tanto poi il consenso si raccoglie altrove si raccoglie andando in televisione quindi questo è sicuramente una delle sfide più grosse per i partiti storici se vogliono mantenere un vantaggio competitivo rispetto a magari altri partiti che preferiscono altri strumenti per raccogliere il consenso prego grazie buonasera a tutti ma ho seguito con molto interesse e oserei dire che preferirei partire tenendo i piedi ancora un pochino volando ancora un po' quindi andando per il cote filosofico della riflessione perché di fatto credo che se noi ci approcciamo alla logica della crisi delle difficoltà al di là dell'organizzazione sezionale pertinente della macchina funzionale per le prossime sfide come quelle che ci attendono di fatto dobbiamo comunque porci un problema fondamentale che è quello della costruzione del senso cioè di capire qual è il senso della partenenza e quindi della logica del partito e allora sorrido perché di fatto io mi occupo giornalmente di formazione ed è proprio il tema fondamentale io sono stufo ad esempio nel mio ambito di sentire parlare di competenze quando poi di fronte ho dei ragazzi che prima che parlare di competenze con i quali parlare di competenze devo tentare di fargli capire che quello che stanno facendo e perché lo fanno e qual è l'obiettivo di quello che stanno facendo io credo che quindi tornando al dibattito di stasera sia sì fondamentale per le sfide diciamo contingenti di breve durata organizzarsi e essere una struttura efficace però dobbiamo mettere in campo da subito e con energia con le migliori energie anche la costruzione oserei dire in modo anche un po' magari provocatorio anche la ricostruzione del senso del partito dell'appartenenza e della vicinanza e della costruzione sostanzialmente di quella rete comunitaria che era la base di una facile organizzazione partitica e che oggi invece è profondamente in crisi prego professor è un invito a nozze quello che fa lei per me quindi sarò molto sobrio lei mi sembra abbia esperienza professionale di formazione di formatore quello è un piccolo esempio di grandissima importanza oggi noi tendiamo a interpretare a intendere l'educare persone come l'istruire persone cioè acchiapparli e sbatterci dentro n competenze poi facciamo celebriamo l'innovazione se tu hai quella scatola di attrezzi delle competenze poi naturalmente vai fuori sei formato e il mondo è cambiato quindi e uno sa che sa quelle cose ma non sa che senso abbia sapere quelle cose e lo stesso è per quanto riguarda altri ambiti della nostra vita individuale o collettiva allora che senso ha oggi uno potrebbe dire dopo la discussione che stiamo facendo beh ma che senso ha un partito al di là del fatto che è molto difficile pensare una democrazia che funzioni senza qualcosa che chiamiamo partiti però il senso del partito mentre questa domanda era difficile porsela quando vi erano date comunità non so se è chiaro qui il problema è di costruirle è molto diverso è molto più difficile ma ne vale la pena altre domande scusi qui c'è un braccio elevato ma oggi discutendo soprattutto delle nuove tecnologie di come modificano i comportamenti umani si parla molto di disintermediazione noi compriamo senza più pagare dal commerciante facciamo i viaggi senza più passare dall'agenzia con la blockchain faremo le transazioni finanziarie senza più passare dalla banca e così via a me sembra abbastanza normale che in un contesto di questo genere che è un contesto in divenire ma in tempi anche abbastanza rapidi si farà politica senza più passare dai partiti per l'appunto la disintermediazione non c'è più bisogno dell'intermediario partito un esempio recentissimo e clamoroso è quello dei gilets jaunes francesi i quali hanno ottenuto quello che i partiti d'opposizione nei confronti del governo non hanno assolutamente neppure sognato di poter ottenere in qualche settimana di mobilitazione autoproclamata auto-organizzata e auto-gestita hanno ottenuto un pacchetto di riforme di 10 miliardi di franchi 10 miliardi di euro ora questo è un esempio clamoroso che non sarà ripetuto ovunque sempre nella stessa forma però ho proprio l'impressione che la democrazia rappresentativa per le ragioni che sono state esposte bene dal professor Veca cioè non ci sono più gruppi sociali o classi sociali omogenee da rappresentare è un po' giunta al suo capolinea e non è un caso che in Francia e altrove i cittadini che sono molto individualizzati quando hanno qualcosa da chiedere da reclamare da proporre non si rivolgono più ai loro partiti ma direttamente al capo dello stato o al capo del governo all'autorità suprema cioè c'è una disintermediazione c'è una ricerca di una forma diretta di far politica tra il singolo cittadino come individuo non più associato ad altri cittadini e chi in quel momento detiene il potere di rispondere alle sue domande è come piacerebbe Oscar Mazzolini ha qualcosa da dire sì i gilets jaunes hanno sicuramente una caratteristica che non è quella secondo me dell'individuo atomizzato si sono organizzati e come si sono organizzati è un'organizzazione dal basso della società civile che è ganciata dai partiti questo sì ma organizzati però molto organizzati e perché è successo questo? Perché in precedenza il sistema si è disintermedia ha prodotto uno smottamento completo dei partiti storici i partiti storici che hanno perso Macron ha creato un partito dall'alto con i suoi sostenitori poi l'ha praticamente svuotato i cittadini che nei vari comuni francesi soprattutto delle zone rurali periferiche non hanno più avuto degli interlocutori in grado poi di influenzare il centro di quindi Parigi laddove si decide e si sono ritrovati a un certo punto senza canali senza canali di trasmissione che appunto una volta erano i canali di trasmissione degli eletti a livello locale che poi magari erano anche presenti nel Parlamento centrale quindi sì c'è una trasformazione profonda ma laddove i partiti si squagliano i cittadini riprendono la loro forza e il loro potere evidentemente laddove invece i partiti hanno ancora delle funzioni di trasmissione delle domande che vengono a società i partiti continuano a funzionare e quindi in un certo senso il caso francese oggi è ancora un po' un'eccezione ma sicuramente è un elemento chiave cioè non è io non sono convinto diciamo della teoria dell'atomizzazione anzi i social sono probabilmente sì siamo da soli davanti al computer però vogliamo essere parte di una comunità poi magari ci riusciamo o non ci riusciamo ma c'è una grandissima volontà voglia di essere comunità e ripeto quando si vuole una risposta quando il sistema politico non è più in grado di rispondere alle domande ai cittadini i cittadini si organizzano e come si organizzano sono in grado di bloccare tutto e quando però a un certo punto arrivano le elezioni ecco che creano le liste dei gilets jaunes e quindi si creano dei partiti si creeranno si creeranno delle forme di partito perché è necessario per poter contare nelle istituzioni dove si andrà anche a decidere delle leggi e quindi questa trasformazione un'istituzionalizzazione una forma di istituzionalizzazione la vedremo sicuramente nei prossimi mesi professor Vizca vuole dire qualcosa a questo riguardo ho da aggiungere poco non dimentichiamoci che i gilets jaunes hanno in modo molto spontaneo alle loro spalle un repertorio dell'azione di protesta che è tipicamente francese perché c'è tutta l'antica storia della centralizzazione eccetera e quindi chiaro che vengono da Normandia che vengono da Bretagna che vengono dall'Atlantico e oggi già stanno discutendo sul piano dei modi di istituzionalizzazione dei gilets cioè tra i pezzi di quelli che hanno fatto parte dell'azione collettiva e d'altra parte Macron certamente a Marche è una delle cose più enigmatiche delle invenzioni più enigmatiche di prodotto politico degli ultimi anni tanto è vero che la debolezza del governo Macron è stata straordinaria Macron la cosa è partita voi sapete benissimo dalla carbon tax che è uno dei passi malfatti verso un obiettivo che io considero importantissimo che è quello della transizione ecologica nel senso che se voi volete disincentivare l'uso di fossili per per gli obiettivi di sviluppo sostenibile è chiaro che dovete lavorare come dire col bastone e la carota il ministro per la transizione ecologica di Macron si era dimesso esattamente due mesi prima dei gilets jaunes Macron ha fatto partire la carbon tax e si è trovata la Francia in eboli nella strada come dicono loro non nella piazza ma penso che tu abbia risposto benissimo vorrei solo dire una cosa velocissima è giustissimo il riferimento è molto importante il riferimento alla disintermediazione connettendolo allo sviluppo delle tecnologie della comunicazione e in generale dello sviluppo tecnologico in senso lato perché pensate allo sviluppo oggi da un lato dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle macchine autonome Amazon sta prevedendo un enorme supermarket in cui non ci sarà qualcuno che assomiglia a un tipo come noi a un essere umano perché sarà completamente robotizzato e quindi questo pone un sacco di problemi per le nostre società c'è chi parla di jobless society cioè di una società in cui non ci sarà la sostituzione non ci saranno i nuovi lavori della nuova società ma si perderanno tutti i vecchi lavori e quindi ci sarà un problema di una specie di plebe che si costituirà salvo i programmatori delle macchine autonome cioè sono problemi enormi questo ha creato anche volevo ritornare sul tuo punto Oscar è vero che c'è un'aspirazione alla comunità in quello che si mette lì e smanetta in rete è verissimo sono tutte costruzioni simboliche di micro comunità il problema è che tutto ciò avviene nella solitudine i gilets non erano soli erano insieme hanno costruito l'insieme però quando uno dice vai per fare un riferimento un po' rozzo questo si con i piedi per terra vai sulla piattaforma Russo profittevole peraltro per la ditta casaleggio associati e dammi i candidati per il Quirinale e ti vengono fuori 13 voti per Zagrebelsky 12 voti 30 voti per Rodotà 15 voti per Gabanelli e 8 voti per un altro e questo è il popolo che ci dice questi sono i cittadini che ci dicono che cosa dobbiamo fare perché c'è stato un'enorme inversione del significato della leadership politica la leadership politica dovrebbe guidare assumendosi la responsabilità e rispondendo delle risorse di consenso naturalmente sono tutti dei dittatori ma oggi le leadership politiche non guidano seguono oggi questa è una differenza profonda scusate grazie una signora che si è prenotata da tempo non è una signora no è un signore ce n'era una di bianco Mazzolini parlava di passaggio generazionale è vero che io di generazioni ne ho quasi passate quattro ma intendiamoci quella che c'è stata in questi ultimi 50 anni non è un passaggio generazionale di una o due o tre generazioni è un passaggio epocale se io vado al 68 di cui si sono appena celebrati i 50 anni dal 68 oggi la popolazione mondiale è più che raddoppiata erano 3 miliardi e mezzo oggi sono 7 miliardi e 7 7 miliardi e 8 e il prodotto interno lordo è decuplicato dove si è poi andato a finire non lo so che vuol dire che per testa d'abitante è aumentato di 5 volte in questo periodo è avvenuto un fenomeno per il momento non se ne è ancora accennato però secondo me determinante anche nei confronti della capacità di fare politica a livello di uno stato che è quello della globalizzazione è quello della presa di potere assoluto della globalizzazione finanziaria soprattutto nei confronti di qualsiasi altro potere e in particolare del potere della politica per cui noi oggi vediamo i politici che i problemi ci girano attorno questo in Svizzera come in Italia come in Germania come in Francia i veri problemi non sono capaci di affrontarli perché richiederebbero uno sforzo globale uno sforzo diciamo perlomeno a livello europeo se non a livello mondiale tra questi grandi problemi ecco penso che so io al problema della giustizia fiscale al problema delle conseguenze della finanziarizzazione dell'economia sui salari che per esempio è un problema molto forte anche in Ticino al problema adesso delle immigrazioni delle immigrazioni al problema del fatto che noi eravamo 500 milioni di abitanti più o meno come siamo adesso l'Unione Europea dopo l'Europa tutta sono 700 milioni e tendiamo piuttosto ad andare indietro l'Africa aveva la nostra popolazione 50 anni fa oggi ne ha il doppio e tra 30 anni ne avrà 4 volte quella che arriverà i 2 miliardi contro i nostri 500 milioni questi problemi l'Europa li sa affrontare gli stati li sanno affrontare e quindi che credibilità è rimasta alla politica a chi rappresenta la politica nei confronti di rispondere a domande che sono sempre più angoscianti per la maggior parte della popolazione e secondo me non bisogna diventare pessimisti bisogna mantenere la speranza che la politica sappia evolvere e sappia tornare o incominciare a cercare di governare la globalizzazione cosa che fino adesso purtroppo non è mai riuscita a fare e ecco io credo che indipendentemente da tutto per risolvere questi problemi le elite restano fondamentali perché non possono essere episodi come quelli dei gilets jaunes che hanno preso sì 10 miliardi ma cosa sono nei confronti dei problemi lì ci vuole gente che studia gente che elabora gente che conosce gente come si diceva prima che sia competente e la competenza si acquista studiando non solo studiando ma discutendo con gli avversari gli avversari con con chi la pensa diversamente da te perché allora puoi arrivare poi a trovare delle concordanze che permettono di affrontare i problemi ecco sono tutti questi aspetti che secondo me hanno creato oggi la crisi della politica rappresentativa che resta però fondamentale grazie ingegner Martinelli già consigliere di stato mi sembra di aver visto una signora che ha alzato la mano lì prima ma Oscar Mazzoleni risponde a Martinelli la risposta è complicata ma vorrei tornare a quanto Salvatore Veca ha detto all'inizio cioè questo questa discrasia questo iato tra già stato sottolineato tra politica e economia oggi si vota oggi nelle democrazie contemporanee si vota all'interno di un determinato territorio all'interno di un determinato confine i cittadini che votano che hanno diritto di voto vivono all'interno di un determinato territorio e i politici e i partiti sono organizzati all'interno di un determinato territorio però l'economia si sgancia è completamente oggi sganciata da questi confini e questa è la contraddizione strutturale nel quale oggi le democrazie contemporanee vivono probabilmente questo iato non è mai stato così forte così potente e spiega tante delle cose e qui condivido perfettamente quello che è stato detto cioè spiega tanta disaffezione che i cittadini hanno nei confronti della politica rispetto ai problemi globali oggi i partiti cosa fanno di fronte a questa difficoltà e non solo da oggi beh hanno puntato e puntano quotidianamente alla comunicazione cioè visto che non possono affrontare i problemi fanno campagna permanente fino a che punto questo comincerà ai cittadini a continuare a votare è una bella domanda io non sono un indovino ma alle prossime elezioni cantonali forse qualche estensionista in più ci sarà non sono un indovino ripeto forse perché ci sono dei problemi che non si riesce ad affrontare in questo contesto strutturale non è colpa dei partiti sia bianchiaro e che rispetto ai quali è difficile dare una risposta a livello nazionale punto interrogativo a livello europeo punto interrogativo dove è il livello dove è il livello scusate i cambiamenti climatici dove è che si risolvono qui stiamo parlando di di temi che come dire travalicano obiettivamente oggettivamente la capacità dei partiti di dare risposte quindi forse stiamo parlando d'altro e stiamo parlando di qualche cosa che va costruito sul lungo periodo e appunto in contraddizione con quello che è il corto termine nel quale spesso ci muoviamo bene sono quasi le otto ci sono ancora tre interventi tre domande prego saiz semplicissimo dopo su in alto allora io ho avuto la fortuna e la sfortuna ero stato criticato perché in 31 anni di politica ho girato due partiti in movimento e sono dietro ancora quindi posso anche guardare indietro e fare delle esperienze che ho pagato anche di persona ho visto forse quel film il viale del tramonto senza accorcervi e quando vedo su battaglini vi faccio questa domanda negli ultimi trent'anni quanti monumenti abbiamo fatto i politici uno secondo qual è il cantone svizzero che ha la scheda senza intestazione perché è nato vent'anni fa questa scheda non vorrei sbagliare magari lui può correggere però una scheda senza intestazione che arriva a 16 18 17 per cento con pur tutti sei ma vuol dire che c'è un pezzo di popolazione che non ha fiducia nei partiti ma cerca le persone ed è qui che i partiti guardano così non ho mai avuto il coraggio di dire di voltare pagina a mio modo di vedere ecco è questo che domando e vi ringrazio perché è stato estremamente interessante avete aperto una discussione andate avanti grazie grazie a lei grazie a lei su in cima prego signore su in cima mi dice comunque che si dice un po' la personalizzazione mi ha colpito una cosa all'inizio della presentazione del professor Marzoleni quando ha definito le vistenze dei partiti e uno da prima della presenza è i partiti ci sono per sottolineare i candidati io personalmente mi aspettavo di venire dei vizioni prima di quella allora le faccio una domanda molto semplice arrivò a partire dei costitoli oggi stiamo per affrontare vicino una campagna elettorale è più il candidato che ha bisogno del partito è più il partito che ha bisogno del candidato dipende dipende it depends allora primo la scheda senza testazione 1921 tutta la Svizzera elezioni nazionali esiste da un po' di secoli cioè un po' di decenni scusate scusate esiste da un po' di tempo in Ticino è stata introdotta perché era già stata introdotta in passato poi tolta poi rimessa però pensiamo solo ai grigioni ai grigioni ci si candida ci si candida senza presentarsi in una lista si può essere letti senza presentarsi in una lista ci sono diversità enormi in Svizzera non è un'eccezione il Ticino è invece uno dei cantoni dove i partiti erano così potenti e forti per cui hanno frenato fino a un certo punto la possibilità di voto preferenziale quando hanno capito che non potevano più fermare l'onda l'hanno cercato di cavalcarla vedremo con quale effetto in futuro i partiti e i candidati dipende sicuramente e qui è importante contestualizzare la maggioranza dei paesi che ci stanno attorno c'è il finanziamento pubblico dei partiti i partiti finanziano i candidati quindi finanziano le campagne qui non è così qui non è così la Svizzera non ha un finanziamento pubblico dei partiti e quindi evidentemente il candidato deve armarsi di pazienza lavorare in funzione anche del partito perché il partito da poco qualche piccola cosa ma è soprattutto questo è il fondamentale il candidato serve al partito più del contrario ma perché i partiti sono fragili sono deboli hanno pochi mezzi e quindi questo è una risposta in altri contesti al contrario qui davanti buonasera ma io mi servirò di un paragone piuttosto arrischiato tra la vita politica in Svizzera e quella che c'è in questi tempi in Italia proprio per parlare dei partiti in Svizzera i partiti ci sono e rimangono e sono forti io ho una convinzione che è quella che la democrazia diretta valga come valvola di sfogo cioè il cittadino anche qui può essere lontano può sentirsi non rappresentato anche in Ticino io ho i due i due passaporti ho vissuto metà della mia vita di là e metà l'ho vissuta qua il cittadino qui a volte è molto scontento però sappiamo tutti che quando è molto scontento trova il modo di far valere certe proprie ragioni che lui ritiene interessanti trova un gruppo di persone e sappiamo quello che succede se poi perde si rassegna siamo tutti convinti che se in Francia potessero votare su un argomento e se avessero la maturità politica per accettare i risultati questo problema dei gile gialli non ci sarebbe? vediamo cos'è successo in Italia dove tutti tutti no ma tutte le persone con le quali parlo io chiedono a gran voce la possibilità di votare quando hanno un grosso problema non dimentichiamo la grossa sberla elettorale che si è preso Renzi dopodiché proprio si è cambiato pagina si è cambiato pagina ed è venuto fuori un partito secondo me quello della protesta la protesta tiene uniti due partiti che più diversi l'uno dall'altro non si può se si fosse potuti in Italia votare con la tranquillità con cui si vota in questo benedetto paese non ci sarebbe tutta la turbolenza chiamiamola così che c'è in Italia quindi tornando ai partiti secondo me i partiti sono una fase della democrazia quando i partiti perdono la fiducia dei cittadini o si va a votare e si scarica la tensione come facciamo noi oppure succede quello che è successo in Francia e quello che succede in Italia quindi i partiti devono essere accompagnati da una possibilità quella che ho citato citando la democrazia diretta grazie ottimo benissimo ultimo intervento lassù dopo chiudiamo perché siamo siamo fuori orario chiedo scusa per l'intervento così a tarda ora ma penso che siamo abbastanza tenaci per finire tra virgolette bellezza un po' di polemica vorrei sottolineare un elemento che non è stato che non è emerso ancora abbiamo parlato di generazioni abbiamo parlato di cambiamento della società di nuove tecnologie ma non abbiamo parlato dei protagonisti di questi cambiamenti soprattutto e queste sono le generazioni giovani le generazioni future tra virgolette se lo vogliamo dire così e adesso dirò una cosa che probabilmente farà sì che la maggior parte del pubblico mi odierà ma la politica e i partiti in particolare sanno di vecchio e questo perché la riprova di quello che abbiamo detto c'è un sentore qualche cosa che i partiti anche storici tra virgolette come li abbiamo chiamati hanno perso qualcosa per strada dormono sugli allori o hanno dormito per tanto tempo sugli allori e io credo che finché la politica e i partiti non faranno qualcosa per queste generazioni ma proprio anche a livello di comunicazione di immagine non soltanto di contenuti perché i contenuti sono validi per tutte le generazioni finché questo sentore di armadio della nonna non andrà e non un vento fresco di primavera entra in questa comunicazione politica ci sarà sempre qualcosa che farà sì che il declino dei partiti continua bene io penso non è che la odiamo non la odiamo l'idea è quella di mettere un po' aprire un po' le finestre e tirar via l'ascia del nonno e prendere invece una bella sottoveste ricamata della nonna perché non abbiamo parlato delle donne e io per pararmi l'ho citato infine ecco direi che su questa battuta possiamo chiudere io non so i candidati che sono qua presenti con che spirito usciranno a fare campagna c'è anche un presidente di partito beh io auguro a tutti di fare una bella campagna perché finora è stata molto spenta credo che ci sia un rinfresco adesso Morena ringrazio il circolo liberale un carissimo saluto al professor Veca Oscar Mazzolini e a tutti voi grazie mille ringrazio anche io scusate volevo solo concludere penso che ci è stato estremamente interessante tutto ciò che abbiamo sentito abbiamo anche capito che è giusto esserci ma è giusto anche avere nuove idee ed essere un po' più audaci in quello che si fa pur mantenendo però le radici i valori ciò che ci muovono il cuore e la passione con ragione critica mi raccomando queste sono le nostre prossime eventi il prossimo evento in realtà l'assemblea però poi parleremo della costituzione perché anche la costituzione che dovrebbe essere la nostra carta più importante è un po' abusata e forse è meglio anche qui capire un po' a cosa serve avremo altri eventi a giugno e settembre però questo poi riceverete gli inviti grazie di essere venuti grazie di partecipare arrivederci grazie a tutti